ciao a tutti io mi chiamo lorenzo pizzuti sono un ricercatore un divulgatore all'osservatorio astronomico della regione autonoma valle d'aosta e mi troverete in giuria a fame lab torino 2022 io sono un ex fame lab ero partecipato a fame lab nel 2016 alle selezioni di trieste è stata una delle esperienze più belle e formative di tutta la mia carriera all'ilà del fatto che fame lab mi ha aperto le porte a questo mondo della divulgazione della comunicazione della scienza quindi il mettersi in gioco su un palcoscenico inventare creare la cosa più bella che mi ha lasciato questa esperienza sono i contatti i contatti con una grande quantità di persone estremamente interessanti provenienti da tantissimi ambiti della scienza ma accomunati da questa grande passione per la divulgazione scientifica persone con cui sono in contatto tuttora e che mi hanno cresciuto tantissimo nella mia formazione sia scientifica da ricercatore che di comunicatore della scienza quindi che dire ci sono tante motivazioni per iscriversi a fame lab noi vi aspettiamo numerosi l'11 maggio a torino al cubo teatro in via pallavicino 35 lunga vita e prosperità Ciao! Ciao! Grazie a tutti.